Overnight è arrivato ed è anche finito. Il bus che dalla provincia di Gorizia e Trieste a Sistiana ha fatto successo anche quest'anno, vero Assessore? Ma certamente, ormai si parla di una cosa che la provincia vive veramente a 360 gradi, i ragazzi si trasmettono questo tipo di informazione, hanno un loro tam-tam particolare per cui ogni anno e sempre di più aumentano il numero dei giovani che usano il bus gratuito e ogni anno di più ci sono famiglie che sono un poco più tranquille quando i loro ragazzi vanno a festeggiare il sabato sera. Come ha detto il Presidente della provincia, i più contenti in realtà e i più felici sono i genitori. Direi che siamo tutti più felici quando vediamo che le cose vanno in questo senso e vanno bene, però certamente c'è una tranquillità maggiore per la famiglia che sa che i ragazzi possono usufruire di questo mezzo. Ma io voglio ricordare che quando parliamo di Overnight il progetto non significa solo il trasporto gratuito in sicurezza, ma voglio ricordare tutto il lavoro che viene fatto degli operatori, gli operatori del CERT, gli operatori del consultorio, gli operatori che sono già sui bus quando i ragazzi partono o ritornano, hanno gli operatori anche sui bus che parlano con loro, che anche controllano, fra virgolette, ma in un rapporto molto schietto, anche perché tutti questi operatori sono estremamente giovani, sono persone preparatissime, ma hanno una facilità nel dialogare, nel comunicare con i ragazzi che veramente è importante in un progetto, in un discorso come questo. Dicevo prima che siamo felici tutti perché insomma la provincia di Gorizia ha da sempre sostenuto questo progetto, fa un po' da capofila anche per quanto riguarda quest'anno, l'anno che è finito, nel senso che è finito il progetto per quest'anno, si relaziona con la provincia di Trieste, che ricordiamo è anche un soggetto importante, con l'APT, con i comuni, il comune di Monfalcone, il comune di Gorizia, con tutto il territorio della nostra provincia. Voglio ricordare che quest'anno noi abbiamo cominciato a portare overnight anche nelle scuole, cioè a portare questa filosofia di vita proprio all'interno degli istituti scolastici, parlando con i ragazzi, parlando con gli insegnanti, spiegando che per una migliore qualità della vita è meglio non abusare né dell'alcol né delle droghe. Poi sottolineiamo una cosa semplice, ma penso che denoti il successo. Quante persone hanno usufruito del servizio overnight? Siamo sempre sui 15.000 ragazzi e voglio ricordare che quest'anno certamente questo numero sarebbe stato superato abbondantemente se non ci fossero stati almeno quattro sabati di pioggia e di brutto tempo, per cui in quelle occasioni i ragazzi non si muovono, non vanno a Sistiana, che si prevede delle uscite all'aria aperta. Overnight 2010, Assessore Seganti, un'iniziativa che è andata bene anche quest'anno. È andata bene anche quest'anno, va avanti da sei anni. La ragione quest'anno ha deciso di dare un finanziamento a questo progetto per poterne consolidare e ampliare le attività. I risultati sono assolutamente significativi. Devo dire che è uno dei tanti progetti sui giovani, sulla guida sicura, sulla lotta agli incidenti del sabato sera. E devo dire che leggendo i giornali e sentendo le televisioni in questa estate, qualche risultato sicuramente l'abbiamo ottenuto, in quanto quelle brutte notizie che ci accoglievano in genere la domenica mattina, quest'anno non c'erano quasi più. Sottolineiamo che c'è stata la collaborazione tra più enti, addirittura due province, e che vale la pena forse continuare. Questo è un progetto, l'unico a livello regionale, che ha messo assieme tanti enti e istituzioni, quindi comuni, province, aziende di trasporti, aziende sanitarie, tanto volontariato, tanti ragazzi che si sono impegnati proprio a fare i tutor ai loro coetanei o a ragazzi un po' più giovani. Quindi è un progetto che va sostenuto insieme ad altri progetti che noi intendiamo sviluppare a favore dei giovani, anche per il contrasto al bullismo, con educazione e prevenzione grazie anche alle scuole. Grazie